Questa lezione è così noiosa. Sono così affamato. Ehi, questa sì che è una commedia. Madison, fai attenzione, soprattutto quando faccio ridere. Ho creato qualcosa proprio per questa situazione. Oh, salve, prof. Bella lezione. Ehm, questo cos'è? È fantastico. Ma perché non l'ha mai portato prima? Sei ridicola! Oddio questa classe. Quel colore ti dona, lo adoro. Disegnare è divertente. Certo, tesoro. Questo smalto è fantastico. Non mi serve più. Au! Fa niente. Le matite sono buone. Attenta, cara. Fa attenzione. Ciao, ciao. Tesoro. Smettila. Scusa, mamma. Molto meglio. Che bello. Sembra buona. Forse è solo un morso. Cosa? Che ti ho detto? Sei noiosa. Non mi interessa. Non farlo più. Un morso veloce. Aspetta. Non ci provare. Fermati. Mi hai sentito? Mamma vorrebbe mettersi lo smalto. Ora basta. Fatti sotto. Guarda cos'ho. Non lo farai? No, ma lo migliorerò. Prendiamo un recipiente con dell'acqua. Poi aggiungiamo dello smalto, versandolo direttamente in acqua. Usiamo diversi colori. Liberiamo la creatività. Poi prendiamo una matita e immergiamola nella vaschetta. Ricopriamola con lo smalto. Togliamola dall'acqua e ammiriamo l'effetto marmo. Ecco a te, cara. Oh, sono così particolari. Posso usarle? Questa mi piace molto. Grazie, mamma. Oh, figurati, cara. Sembra appetitosa. Non ci provare. Non farlo. Ops, c'ero quasi. Brava. Ho finito con questa matita. Anche questa è carina. Sei davvero adorabile. Da dove cominciò ad abbuffarmi? Ah, patatine, certo. Che profumino. Ancora. Upsi. Che meraviglia. Finalmente a casa. Oh, ma dove ho messo le chiavi? Fa niente, dai. C'è Wendy in casa. Come mai ci mette così tanto? Wendy, ci sei? Ah, sì. Oh, la mia testa. Che male. Cos'è questo rumore? Wendy, apri la porta. Oh no, ho fatto un disastro. La mamma si infurierà a accidenti. Devo pulire tutto e subito. Dov'è il resto dello spazzolone? Ora che faccio? Posso usare i calzini. Li metto sopra lo spazzolone. E anche dall'altro lato. Spazzolone, fai da te. Sono geniale. Ora devo pulire tutto. Wow, davvero un'idea brillante. Oh, ciao mamma. Entra come è andata oggi. Che succede qui? Siediti, rilassati. Per un pelo. È tutto così pulito. Fin troppo. Ehi, ma qui c'è... Qualcosa? No, niente. Mi sono seduta sopra qualcosa. Una busta vuota di patatine. Come ci sarà finita lì? Torna qui. Sei così bella. Ciao Luna, stai benissimo. Che situazione. È così fastidioso. Ora basta. Con voi due è sempre la stessa storia. Wow, calmati. Ho un'idea. So io come parlare con Kevin. Senza infastidire Cheryl. Intanto coprirò il mio quaderno con questo nastro. Dovrebbe funzionare. Poi taglierò un quadrato da questa spugna. Proprio così. E applicherò della colla sulla spugna. Non me ne servirà a molta. Attaccherò la spugna su questa penna così. E adesso scriverò un messaggio per Kevin. Ecco. Ehi, passa questo a Kevin. È per te, prendilo. Fighissimo, devo rispondere. Ancora con queste cose? Lo dico alla prof. Professoressa! Prendo io quello. Fammi cancellare il messaggio. Non vedo l'ora che arrivi stasera. Dammelo! Prof! Guardi qui! Sì, Cheryl. Si stanno passando dei messaggi. Ma prima c'era. Non farmi perdere tempo, Cheryl. Ma c'era un messaggio. L'ho visto! Oh no, è il mio test! Sarò bocciata! No! Ci vediamo stasera? Non vedo l'ora. Adoro il giorno degli esami. Spero che i miei studenti siano pronti. Oh cielo, no! Niente di tutto questo ha senso. Prof, prof! Ho una domanda. Ho bisogno di aiuto. Ehm, scusa, ma l'agicolo che c'è scritto sulla lavagna, Julie. Niente domande. L'esame sta per iniziare. Oh ah ah! Giusto, scusi. Pensavo fosse come una normale lezione. Certo, come no? Ehi, sono qui per fare l'esame, credo. Ah, che palle. Non posso credere di dover stare qui. Sembra che qualcuno sappia cosa bisogna fare. Forse mi avvicinerò verso di lei. Prof, prof! Sta spostando il suo banco vicino al mio! Ok, è ora di iniziare l'esame. Cominciate! Ok, posso farcela. Devo solo rispondere alle domande. Devo solo allungarmi un attimo. Ehi, meno male che ho portato con me questo fuoco. Un foglietto. Ehm, cosa ti credi di fare? È quello che pensavo, un foglietto. Dammelo! Ora torna al lavoro e finisci il tuo esame. Ok, beh, meno male che ho un piano alternativo. Non pensarci nemmeno. Lo prendo io. Dai, è una specie di professoressa ninja. È interessante, però. Ok, ma come diavolo farò adesso? Beh, forse aprirò il mio astuccio. Meno male che ci ho messo un altro foglietto. Ehi, cosa hai lì? Oh cielo, un altro foglietto! Dammelo! Ecco, prendi quello che ti serve per scrivere. La mia penna. Forse potrei farci qualcosa. Sì, penso che potrebbe funzionare. Per prima cosa dovrò riscaldare il taglierino usando la fiamma di una candela. Ecco, è bella calda. Ora devo usare la lama sulla penna. Come toglia bene. Ora mi servono due stuzzicadenti e un elastico. Devo avvolgere l'elastico attorno a questi stuzzicadenti. Bene, ora farò scorrere il mio foglietto attraverso il taglio che ho creato. E ora gli stuzzicadenti mi aiuteranno ad avvolgere il foglio. E ora posso rimettere insieme la penna. Perfetto! Sì. Sì. Sarebbe stata un'ottima creazione. Oh, giusto l'esame. Meglio che mi metta al lavoro. Sì, sono proprio brava a far bilanciare l'orologio sul mio braccio. Oh, ehi. Ora basta. Avete finito il tempo. Abbassate le matite, per favore. Adoro il giorno degli esami. Sì, alla grande come pensavo. Aspetta, il tempo è già finito. Non ho fatto niente. Il mio unicorno personale è così carino. Ma hai bisogno di un po' di colore. I miei pennarelli sono qui da qualche parte, vero? Oh, no. C'è qualcosa che non va. C'è inchiostro ovunque. Non posso disegnare con questi. Mamma! Che c'è che non va, tesoro? Guardi i miei pennarelli. Oh, tesoro, va tutto bene. La mamma sa cosa fare. Intanto puliamo questo casino. Non possiamo avere le mani sporche. Puliamo anche lo zaino. Non funziona. Aspetta, prenderemo un altro zaino. Fammi prendere il telefono. Wow, gli zaini sono così costosi. Andrà tutto bene. La mamma deve vedere quanti soldi ha. Sapevo che era troppo bello per essere vero. Odio vedere la mia bambina così triste. Aspetta, penso di sapere come sistemare tutto. Potrebbe funzionare. Per nascondere le macchie, devi soltanto prendere del feltro colorato. Taglia il feltro a forma di unicorno. Applica la colla su ogni parte e assicurati di coprire tutto il feltro. Quindi attacca i pezzi allo zaino. Fallo per ogni parte e crea un unicorno. Alla fine la macchia di inchiostro non si vedrà più. Non possiamo dimenticarci gli occhi. E anche le sue belle folte ciglia. Adesso sì che è magico. Ciao tesoro, tutto ok? Sono riuscita a pulirmi le mani. Bene, la mamma ti ha fatto questo. Uno zaino unicorno! Lo adoro, grazie mamma! Di niente tesoro. È perfetto! Devo solo pinzare questi fogli e avrò finito i miei compiti. Com'è divertente! Ah? Si deve essere inceppato! Wow! No! Che casino che ho fatto! Tutto ok, meno male. Adesso posso rilassarmi. Stupide graffette! Che dolore! Oh no! Questa è una scena del crimine. Rimani ferma, ok? Niente giornalisti! Sì, via di qui! David! La 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 la, sì! David! Che buon caffè! Spero che funzioni! Da dove arriva qualcosa? C'è un messaggio? SOS? Chissà che succede! Che cos'è questo? Cosa? Graffette! La mia custodia degli airpod risolverà il problema. Raccoglierà tutte le graffette. Proprio così. Penso di averle prese tutte. Grazie! Aspetta, lo sapevi che c'era un test? Chi è quel tipo inquietante? Ho quello che ti serve. Matematica, inglese, risposta multipla. Mi hai convinta! Prima i soldi. Ovviamente. Fammi vedere cosa. Penso che queste saranno sufficienti. Ecco qui, alla moda. Ci sono tutte le risposte. È fantastico, grazie! Un altro cliente soddisfatto. Ciao, puoi aiutarmi? Con il tuo stile. Non faccio mica miracoli. Come sono emozionata. Questa è la gomma più intelligente che esiste. Molto meglio che studiare. Devo comprare anch'io le risposte. Devono esserci delle caramelle. Con questa non otterrò molto. Mi scusi, che cosa posso ottenere con questa? Mi fai morire. Vattene via. Andrò via come un ninja. Perché non cammino? Perfetto, e adesso come farò? Aspetta, ho avuto un'idea. Vale la pena provare. Metterò la custodia sullo schermo. Così posso scorrere tutte le risposte. Sono pronta. Non potrete imbrogliare. Non nella mia aula. Devo nasconderla. Vediamo cosa dice lo scanner e rivela imbroglioni. Non va bene. Lo sapevo. Stai imbrogliando. Con una gomma. Sono disgustata. Dovrei farlo a ogni testa. Che cosa abbiamo qui? Nessuno può battere il mio scanner. Stai usando un cappello per nascondere le risposte? Oh, fregata. Finora tutto ok. Oh, l'insegnante sta arrivando. So che troverò qualcosa. Per favore, non suonare. Oh? Deve essersi rotto. Vedi, non sto barando. Che brava ragazza. Mi arrendo. È troppo figo, vero? Oh, mi sta venendo fame. Lo stomaco mi brontola. Ehi, ehi. Guarda qui. Hai predetto che avrei avuto fame. Scusami. Aspetta. Ho la soluzione. Ta-da. Ho del cioccolato nella manica. Wow. Sei il mio eroe. Wow. Sto per predire qualcosa. Siamo noi. Mangiamo il cioccolato. Oh no. Ci beccherà. E ci trasformerà. Non voglio essere uno scoiattolo. Non so arrampicarmi sugli alberi. Dobbiamo fare qualcosa. Ma sto morendo di fame. Ah. Chissà se possiamo... Ehi. Ascolta. Un po' di magia. Perfetto. Sta a pennello sul retro del telefono. Ma quanta deliziosa cioccolata. Adesso ne voglio un pezzetto. Accidenti. Quanto è buona. Ehi. Che cosa succede laggiù? Voi due? State mangiando? No, prof. Sono solo il telefono e la custodia. Beh, continuate con l'adivinazione. Non posso credere che abbia funzionato. Mangiamone ancora. Quanto mi annoio. Cerco di fare attenzione. È così interessante. Ecco, tutti i miei appunti sono pronti. Che secchiona che sei. Non capisco niente di questa roba. Chi vuole rispondere? Chi vuole rispondere? No, che dico, Wendy? Sì. Grazie. Ora è il mio momento. Oh, questa non la sapevo. Aspetta. Oh no, ho fatto un pasticcio. Ho sporcato il quaderno di Wendy. Ora si accorgerà che ho copiato da lei. Ma forse... C'è un rimedio, sì. Devo copiare tutto sul retro del quaderno. Così non se ne accorgerà mai. Che sta facendo? Di sicuro non i compiti. Ecco un'ultima cosa. Devo disegnare quello stupido cerchio. Avrei dovuto seguire le lezioni di arte. Ma che fa? Starà mica... Studiando? Disegno un cerchio intorno a questo rotolo di scotch così. E cerchio perfetto, forse no. Che pazienza ci vuole. Vai avanti, Wendy. Oh, ho trovato. Posso usare questa monetina. Piano. Ma perché è così complicato? Devo solo disegnare un cerchio. Che altro potrei usare? Forse queste forbici? Sì, forse così può funzionare. Vale la pena provarci. Metto le forbici sul banco. Poi metto la colla su uno dei manici. Adesso incollo qui una matita. Sembra stabile. Ora posso disegnare un cerchio perfetto. Praticamente ho creato un compasso fai da te. Devo solo continuare a girarle. Ce l'ho fatta meno male. Grazie. Molto brava, Wendy. Jennifer è a causa persa. Che divertimento. Spero non si accorga di niente. Un attimo, qualcosa non va. Oh no, se ne accorta. C'è della polvere su questa pagina. Meno male che ho un compasso per disegnare i cerchi. Scherziamo. Ma... Oh beh. Sapevo che questa lezione sarebbe andata male. Sono così eccitata per il corso di arte. Ok ragazzi, oggi voglio che disegnate un gatto. Guardate il suo bel visetto. Cominciate. Oh, sarà difficile. Ecco la sua coda. Wow, non è carino. Finito. Ho dovuto sbrigarmi, quindi non è venuto benissimo. Cosa? Incredibile. Questo è il giorno peggiore di sempre. Da qui. Ah, per te questo è d'altro. Hmm, ho un'idea. Potrebbe funzionare, sì. Se avvolgo l'elastico attorno alle penne e faccio lo stesso dall'altra parte, posso ricreare il gatto sul mio quaderno. Sta funzionando. Finché seguo le linee verrà una copia perfetta. Wow, come figo, è perfetto. Sono impressionata, Cheryl. Grazie, mi viene naturale. Una B. Meravigliosa come sempre, Luna. A più. Continua così. Grazie. Oh no, sta ancora stampando. Shh, basta. Cosa? Non c'è niente da vedere qui. Odio le lezioni di arte. Ma questo è complicato. Avrei dovuto studiare davvero. Psst. Madison. Madison. Ciao. Ciao, David. Oh, santo cielo, ci siamo. Questi sono per te. Sei così romantico. Voglio passare il resto della vita con te. Sono così felice. Ehi, piccoletto. Ai miei baffi. Ciu-ciu. La vita è perfetta. Ehi, yuhu, ci sei? Posso prendere questa penna in prestito? Oh, certo, giusto. Tieni. Oh, aspetta. Non posso dare a David una penna masticata. Devo trovarne un'altra. Oh, devo smettere di mangiare le penne. Ciao, David. Ehi, Emma. Puoi avere la mia di penna. Aspetta un attimo, ok? Non ci credo che sta facendo, Emma. Devo essere veloce. Così va bene? Non ci metto molto. Devo avere una penna da qualche parte. Non c'è. Oh, forse posso usare questo smalto. Penso che potrebbe funzionare. Inizierò smontando una penna. Poi taglierò la punta. Metterò della colla all'estremità della punta e adesso mi serve lo smalto. Metterò la punta nella bottiglia e ci metterò della colla. Aspetterò che si asciughi e poi avrò una nuova penna. Dovrebbe funzionare. Adesso è una penna glitterata. Oh, come stravagante. Posso rimettere il tappo della bottiglia. È sicuramente meglio di una penna noiosa. Ecco a te. Aspetta, ci siamo toccati. Ora posso fare il test. Questo è il giorno più bello di sempre. È una buona penna, grazie. Sì, ha funzionato. Sei così carino. E intendo la tua scrittura. La tua scrittura è carina. Come puoi vedere, i colori di questo dipinto sono semplicemente divini. Evocano le notti d'estate e la tentazione. Ok, sei pronta per iniziare? Facciamolo. Non preoccupatevi ragazzi, sto bene. L'arte può essere pericolosa. Ora mettetevi al lavoro sulle vostre tele, per favore. Sarò qui se avete domande e avete bisogno di aiuto. Va bene, sono pronta per creare arte. Eccellente. Sento molto questi colori. Ho bisogno di altri colori per il mio lavoro. Colori. Voglio i colori. Ancora questi colori, anche questi. Sì, ora sì che va già meglio. Molto bello. Sì, questa è la passione che mi piace vedere nei miei ragazzi. Sembra che abbia finito l'inchiostro. Ne prenderò un altro. Dove sono andati? Ehi, li ha presi tutti. E ora come diavolo farò? Un po' di più di questo qui. Sì, scuizito. Ma è ridicolo. Come faccio a lavorare senza strumenti? Aspetta un attimo. Penso di avere un'idea. Adoro questi piccoli libri da colorare. Devo solo avvicinarmi di soppiatto. Devo prenderli. Oh, pensavo di aver sentito qualcosa. Dove sono finiti i miei cotton fioc? Mi prodono le orecchie. Oh no, oh no. Aspetta, aspetta. Calmati, tutto andrà bene. Ecco, la mia scorta di riserva. È tutto ok. Bene, la prima fase del mio piano è stata un successo. Ora posso mettermi al lavoro. Avvolgerò questo batuffolo di cotone con la carta velina. Tutto intorno. E ora userò un po' di nastro adesivo washi. Oh, adoro questi po' a viola. Che carini. Devo avvolgerlo attorno al tampone. È fantastico. Ma quello di cui ho veramente bisogno è del colore. Come il colorante alimentare. Metterò qualche goccia all'estremità del cotone. Farò un piccolo test su questo pezzo di carta. Ho salvato il mio progetto artistico. E perché farne solo uno quando posso creare l'intero arcobaleno? Bene, è ora di rimettersi al lavoro. Via! Ciao, opera d'arte. Mi sei mancata, ma sono tornata con tanto colore. Sono il miglior genio artistico di sempre. Ecco, penso che questo potrebbe essere un vero capolavoro. Va bene, ragazzi. Vediamo i vostri lavori di oggi. Ecco il mio. Lo adoro. La mia è un'espressione del terrore che si prova su delle scale buie. Va bene, fammi dare un'occhiata più da vicino. Ok, ok. Vedo l'utilizzo del blu e evidenziazione con l'arancione. Va bene, ci sono molte pennellate. Oh, cos'è questo? Da dove vengono questi piccoli bastoncini? Eccellente, li amo. Ottimo lavoro, mia cara. Lo prenderò in prestito se non ti dispiace. Oh, certo, immagino che non sia un problema. Oh bene, fammi scrivere nel mio diario. Oh, mio Dio, cosa ho fatto? Che noia. Oh, salve. Bonjour. Vorrei disegnarsi questa. Questa statua? Sì. Libera la fantasia. Nessun problema. Ce la posso fare. Hm. Iniziamo. La bocca è orrenda. Non è ancora finita. No, ricomincia. Tutti bravi a criticare. Cancelliamo qui. Proviamo di nuovo. Non male. Dovrebbe stare in una galleria. Wow, mi sta addosso. Non mi piace. Va bene. Ma l'arte non era personale. Questa è la volta buona. Decisamente meglio. Ahem. Che c'è? Ricomincia. Mi prende in giro. La gomma. Non posso usarla. Un momento. E adesso? Ci deve essere qualcosa qui. Questo serve a pulire, giusto? Soffrirà il solletico? Andiamo. Questo da dove spunta? Non ha senso. Ok. Questo deve funzionare. È sicuramente ingegnoso. Wow. Mai visto nulla del genere. Ok. Riproviamo. Come le sembra? Diamo un'occhiata. Prego. Oh. Vedo. Aha. Devo controllare la statua. Interessante. Sono così nervosa. Dovrò mettere un voto. Non è semplice. Non ci credo che sto per farlo. Ottimo. È fantastico. Oh, guardatelo. Quanto è carino. Oh, la foto la voglio io. Ehi, ridammela. Già mai. La foto è mia. Dammela subito. Oh, oh. Guarda che hai fatto. Hai rovinato tutto. Mi dispiace tanto. Dico sul serio. Forse posso rimediare. Aspetta. Mi serve questo. Ehi, Jennifer, guarda qui. Ora trasformo i tuoi compiti in qualcosa di tenero. Bisogna risolvere questi calcoli. Tutto facile. Ecco. Tutto qui? No. What? Ora devo fare un po' di modifiche e trasformare i numeri in lettere. Così è decisamente meglio, non pensi? Ora ho finito. Che ne pensi? Ti voglio bene. Oh. Mi dispiace. Torniamo migliori amiche. Ma certo. Per sempre questo. Luna? Non farlo. Ciao. Ok, vieni qui. Devo fare i compiti, ok? Ok. Io mi metto a disegnare. Va bene. Wow, che bel disegno. È una casa, ho quasi fatto. Anch'io. Guarda, Luna. Che stai facendo? Oh, no. E non sono stata io. È su tutti i miei libri. Scusa, però è bello. È tutto rovinato. Guarda. Come faccio adesso? Aspetta. Questo inchiostro potrebbe tornarmi utile. Ora penso di poter coprire tutti questi disegni. Intanto posizionerò della carta sul quaderno. Quindi userò dei pennarelli per creare dei motivi sulla carta così. Per un effetto più vivace userò colori diversi. Mi piace, ma non ho ancora finito. Prenderò un sacchetto di plastica e ci verserò dentro l'inchiostro. Bisogna fare attenzione a non farlo fuoriuscire. Una volta fatto, sigillo il sacchetto e lo posiziono sul quaderno. Stendo l'inchiostro. Prendo del feltro e ritaglio un bordo per il quaderno. Devo solo attaccarlo al quaderno e divertirmi adesso. È un ottimo modo per passare il tempo quando ti annoi. Che bella idea. Non sto facendo niente, giuro. Ehi, è tutto ok. Aspetta, è per me. Certo. Com'è divertente. Guarda, sto facendo delle belle forme. Grazie, Luna. Fermati lì. Fammi vedere il libro. Ah ah! Lo sai che non è permesso portare cibo in classe. Ci sono persino i cartelli. Butta via i tuoi snack, subito. Vediamo cosa nascondi. Oh no! I miei snack e i dolci! Sciocco! Non puoi sfuggire alla magia. Vuoi che ti trasformi in una salamandra? Allora? Uh! Il prof è bello carico oggi. Ma non voglio buttare via i miei dolci. Aspetta, il cappello! Ok, mi serve un pezzo di nastro biadesivo. Devo attaccarlo nel cappello. E ora mi servono gli sneakers. Posso attaccarli tutti sul nastro. Ma perché solo quattro? Fermati lì. Stai nascondendo del cibo? Cosa hai sotto a quel cappello? Toglitelo e vediamo. Oh, ma non vedo niente. Oh, spero tanto che non controlli dentro. Sembra tutto a posto. I ragazzi pensano di essere più furbi di me. Nessuno guarda, è la mia occasione. È ora di mangiare. Oh, che buono! Ne avevo proprio bisogno. Come ho fatto a intrufolare il cibo? Non è giusto. Dai, entra! Forse ho troppe cose nel mio armadietto. Per favore, chiuditi. Quasi. Oh, finalmente. Pensavo che non ci sarei mai riuscita. Sono così stanca. L'armadietto di Cheryl è aperto. Come strano. Cheryl, stai bene! Cheryl, svegliati! Non voglio andare a scuola, mamma. Dovrei aiutarla, ma come? Forse questa busta mi tornerà utile? E anche questa calamita! Sì, funzionerà. Metterò la busta nell'armadietto e la terrò in posizione con la calamita. Farò lo stesso dall'altra parte. Dovrebbe andare. Poi riempirò le buste con tutte le cose di Cheryl. Questo la aiuterà a tenere organizzato l'armadietto. Wow, ha un sacco di roba. Che differenza! Adesso l'aiuto a svegliarsi. Yuhuu! Tu? Sei un angelo? Oh, sei solo l'una. Ho riordinato l'armadietto per te. Adesso posso vedere che cosa c'è. Oh, è così pulito! L'adoro! Grazie, sei la migliore. Prego. Lasciami adesso. Mi stai schiacciando. Nessun problema, amica mia. Devo prendere i libri per le lezioni. Ops! E fai finta di non aver visto niente.